Innanzitutto permettetemi di invitare alla donazione di sangue uomini, donne, ragazzi e ragazze fra i 20 e i 50 anni in buona salute che passino qualche ora della loro estate in città perché è sempre un periodo d'emergenza, gli incidenti stradali purtroppo non si fermano, le trasfusioni servono sempre, le malattie non conoscono pause e quindi spero col mio gesto di sensibilizzare qualche trentenne o quarantenne dalla vita regolare e con sana e robusta costituzione a dedicare un quarto d'ora del proprio tempo al prossimo perché donare sangue salva una vita e fa bene a chi dona perché ha il controllo totale del suo stato di salute. Io ho scoperto la pressione un po' alta, mi hanno detto rilassati, è facile dirsi, è meno facile a farsi, però questo è il senso, io ringrazio gli amici di Avis che terranno aperta questa sede come tante altre sedi anche tutto il mese d'agosto quindi spero che qualcuno abbia voglia di capire come si può salvare una vita a costo zero, anzi facendosi del bene. Se lascio una battuta a loro e poi se ci sono domande su altro ovviamente rispondo volentieri. Per noi è un motivo di...